Una prestazione da incorniciare è una serata che difficilmente dimenticheremo? Sì, soprattutto per il risultato, un risultato che dà un forte segnale, era importante vincere, dare la continuità agli ultimi risultati e oggi è andata bene sia di squadra che anche sono contento della mia prestazione. Infatti sei stato sicuramente, se non il migliore in campo, sicuramente tra i migliori. Che effetto ti fa, considerato che non hai trovato tantissimo spazio da quando si affogge? Quando non si trova spazio comunque si lavora sempre per farsi trovare punto pronto in queste situazioni. Quando poi hai l'opportunità è importante fare bene per poi magari avere una continuità di prestazione, di continuare a giocare e dare un forte segnale anche all'allenatore che ci sei. Ti conoscevamo molto sul piano della quantità ma stasera hai fatto vedere anche tanta qualità? In teoria io ho più qualità di solito che quantità, è negli ultimi anni che sto migliorando. Che tipo di segnale hai lanciato il Foggio al campionato? Vincere, dare continuità al campionato è importante, le ultime partite stanno andando bene e una vittoria dopo vittoria è sempre importante. Grazie.